Per chi non la conoscesse, è questa signora, bella signora qui, è Antonella Toreschini, figlia di Marco Toreschini. Ovviamente è la nostra madrina del convegno, per cui adesso dirà due parole e con il microfono. Vi ringrazio semplicemente per avere la pazienza che avete avuto per aspettarvi, ma vi ho tutti nel cuore, perché so che fate tanto per mio padre. E soprattutto queste creature che si sono buttate a pesci, tra loro, questa Fiorenza Zampie, tra i Zampie e i suoi fratelli, le mogli che bisogna dire che hanno una pazienza. Non ve lo posso descrivere. Le paragono quasi a mia madre, perché anche mia madre aveva una pazienza enorme con mio padre. Perché questi cervelloni bisogna capirli, perché se non si capiscono è finito, è meglio prenderla a prendere. Ad ogni modo, io vi ringrazio della vostra partecipazione e so che venite anche da montano. E quindi questo mi fa piacere che ci siano ancora e con loro questi seguaci di mio padre. Vi abbraccio tutti con tutto il mio cuore. Io forse non parteciperò fino all'ultimo, perché è inutile che vengano raccontati la mia telemovere. Perché ho avuto degli incidenti, mi hanno buttato con una SUV, sapete cos'è la SUV, quindi lo dico pubblicamente. Mi hanno schiaffato sulle strisce due anni fa e ho i postumi. Non ho rotto niente, grazie a Dio. Però, insomma, ste gambe mi danno un po' noia. Devo fermarmi un momento, quindi ecco perché o il mio ritardo, o il mio che sono stato non troppo presente, che dovevo, perlomeno all'inizio, del modo sotto la vostra comprensione è grande, vi abbraccio tutti, tutti con tanto amore, con tanto affetto e proseguite tenaci nella forza di mio padre. Grazie. Grazie.